In occasione della festa di San Benedetto da Norcia, patrono d'Europa, prevista per la giornata di venerdì 21 marzo, questa mattina il sindaco Ricci ha distribuito ai rappresentanti di tutti gli istituti pesaresi le bandiere europee. La consegna simbolica del primo cittadino ai presenti è stata fatta in occasione dell'adesione all'iniziativa di Lega Autonome 100 piazze per l'Europa con lo scopo di far esporre le bandiere alle finestre e balconi il giorno della festa. È un'Europa che ha garantito pace, diritti sviluppo e l'Italia non ha futuro senza Europa, quindi lavoriamo per cambiarla ma abbiamo bisogno di più Europa perché altrimenti l'Italia non compterà nulla e anche gli interessi degli italiani non saranno tutelati. Come comune, ha proseguito il sindaco, abbiamo provato a rilanciare lo spirito originario dell'Europa in un momento in cui è a grande rischio di disgregazione. È evidente che l'Europa che c'è oggi non ci piace, noi la vorremmo molto diversa ma è anche chiaro che l'Italia non ha futuro se l'Europa non diventa un continente più forte. L'obiettivo, conclude, è che nasca un meccanismo di emulazione come quando ci fu la mobilitazione con le bandiere della pace.